Onorevoli colleghi, le tragiche conseguenze del fortissimo nubifaggio che nella notte tra sabato e domenica scorsa ha colpito Livorno e le altre zone della Toscana lasciano in tutti noi un sentimento di dolore e di sgomento, in quanto, oltre ai pesanti danni alle abitazioni e alle vie di comunicazione, consegnano un quadro luttuoso di ben otto vite umane spezzate. L'intera vicenda è resa ancora più drammatica dalla circostanza che delle otto vittime quattro appartenevano alla stessa famiglia, padre e madre, un bambino di quattro anni e il nonno che, fino all'estremo sacrificio, è riuscito eroicamente a salvare l'altra nipote, una bambina di soli due anni. In questo primo frangente è doveroso formulare un sincero sentimento di gratitudine nei confronti di tutti coloro che sono impegnati ad alleviare il disagio della popolazione colpita.